Buonasera a tutti, innanzitutto siamo contenti che siete così numerosi anche oggi ad affrontare un tema decisamente particolare, oggi stiamo vivendo in questi giorni moltissimi incontri pubblici sul tema della morte, sul tema della perdita, sui temi rituali che accompagnano il fine vita e oggi affronteremo questo tema da un punto di vista decisamente particolare, comunque da un punto di vista forse insolito per chi appunto vive la morte dal di fuori, da chi appunto non lavora nel campo affronteremo e lo faremo con due ospiti, con due ospiti con cui mi fa molto piacere dialogare innanzitutto, e li presento anche bene, mi sono provato gli appunti, Simona Pedicini che è una tannatoesteta che svolge corsi di formazione in tannatoestetica e cosmesi funeraria per privati agenzie di pompe funebri e che ha scritto lo scorso anno, giusto, 2022, 23, quest'anno, quindi questo romanzo morte per grazia ricevuta, su cui magari poi riusciremo anche a dire due parole e poi abbiamo Adezeno, Adezeno sottolino subito questa cosa perché secondo me è carina evidenziarla io e Adezeno ci conosciamo da circa 30 anni, abbiamo fatto il liceo insieme e ci ritroviamo ad affrontare da punti di vista differenti il tema della morte, della tannatologia, ci chiediamo sempre se i nostri percorsi di vita e scolastici non abbiano influito su questa scelta perché è curioso che appunto due persone che si conoscono da tanto tempo si sono ritrovati a svolgere attività in questo campo e Adezeno è un cerimoniere appunto per il tempio crematorio del cimitero monumentale di Torino nonché scrittore che ha pubblicato diversi libri, ricordo l'angelo esposto del 2015 e soprattutto l'incanto del pesce luna pubblicato da Bollati Boringhieri nel 2020 finalista al campiello di quell'anno. Quindi affronteremo insieme due professioni come vi dicevo un po' particolari, quello della tannato esteta, del cerimoniere laico con tutta una serie appunto di caratteristiche e di aspetti che verranno messi in luce adesso man mano. Però prima di entrare proprio nel cuore di queste attività parto a chiedere a tutti e due la domanda diciamo più banale in assoluto, una domanda che viene rivolta spesso anche a me che nella sua banalità comunque ha una sua funzionalità e ci permette poi di capire il tipo di attività che appunto hanno svolto, ossia come mai, come è successo, perché avete scelto, vi siete ritrovati a occuparvi, a svolgere un'attività di lavoro che ha a che fare con la morte. Salve, buonasera a tutte e a tutti. Io nasco dal mondo della ricerca e tutto ciò che nella mia vita poi è successo dal punto di vista degli interessi, degli studi e della professione arriva da lì. Sono specializzata in studi sulla Sacra Sindone, quindi ho avuto un contatto da subito con un corpo assente e da subito sono entrata in questo senso di mistero del corpo assente. Mi sono poi specializzata in studi sulla mistica femminile di epoca barocca e in modo particolare su quella che è la storia della dissezione sul corpo sacro femminile, un corpo che la Chiesa ha voluto aprire nel tentativo di cercare quelle che fossero le tracce, le prove demoniache, il più delle volte meno di divine. E anche lì quello che veniva raccontato all'interno di questi manoscritti del 1600, del 1700 era il senso di un corpo su cui la Chiesa cercava di svelare il mistero del demoniaco. Da subito con la morte, in modo particolare con il cadavere, ho avuto un approccio che non è mai stato di paura, non è mai stato di angoscia né di timore, ma è stato quello di una ricerca di mistero. Poi è successo che in un momento in cui stessi scrivendo un articolo in cui si faceva riferimento a queste figure di mistiche, era un articolo in lingua inglese, cercassi il titolo della collettanea che raccoglieva quest'articolo e cercando su internet, non per caso perché nulla accade mai per caso, abbia trovato questo libro citato all'interno di uno spazio in cui non pensavo perché non conoscevo quel tipo di spazio, una funeral home canadese, una casa funeraria canadese che aveva una pagina interessantissima in cui io sono entrata cercando di capire esattamente cosa fosse, insomma parliamo di diversi anni fa quando le case funerarie costituivano in Italia una rarità se non una conoscenza per pochi e avevano degli spazi, era una casa funeraria di tipo vittoriano, avevano degli spazi interessantissimi, in uno di questi spazi c'era una allestita, una piccola biblioteca che serviva per accogliere tutti coloro che andavano a porgere l'ultimo saluto al defunto, familiari, amici e fra i testi esposti c'era esattamente il testo che io cercavo. Ecco, è il senso del mistero che poi mi ha portato a capire come mai quel tipo di testo fosse all'interno di uno spazio che per me invece era totalmente altro e da lì è partita la ricerca di quello che invece esistesse in Italia di analogo e ho trovato il riferimento in Italia e una volta trovato quel riferimento che è stata una delle prime case funerarie di Modena, la Terra Cielo, lì mi sono iscritta subito perché quello che capivo è che nel senso del mistero della morte del cadavere ciò che a me mancava era il significato del cadavere, che cosa fosse realmente, cioè che tipo di temperatura, che tipo di odore, che tipo di presenza fosse il cadavere e se la morte, quindi il mistero della morte fosse all'interno di quel cadavere all'esterno o nello spazio in cui era manipolato. E man mano che andavo avanti ho conosciuto anche queste figure di Tano Testetti che in un modo o nell'altro erano gli ultimi ad accostarsi al mistero del cadavere e quindi anche ad entrare in una maniera differente nel mistero della morte e da lì è stato un percorso quasi necessario, indispensabile per me per cui poi alla fine ho continuato lungo quella strada. Poi entreremo nel dettaglio del tuo attività. Ma il mio è un percorso un po' meno complesso, non ho mai frequentato demoni, tanto per cominciare ci tengo a sottolinearlo e in realtà non sono mai stato affascinato dai cadaveri che continuo mi ostino a non frequentare facendo un lavoro che si occupa sostanzialmente dei vivi, dei superstiti. Il mio percorso, io ho un percorso più legato alla letteratura, ho studiato lettere moderne, mi sono interessato ai demoni della letteratura, dell'anima umana se vogliamo e ho fatto un percorso universitario di ricerca in quell'ambito, mi sono occupato dal punto di vista della linguistica, dell'interdizione linguistica e quindi di tutte quelle formule che usiamo tutti quotidianamente per evitare alcuni argomenti tra cui la morte e l'argomento è il tabù linguistico e quindi il mio percorso anche di studi letterari e linguistici aveva dei legami con il tema dell'evitazione e con il tema della morte che poi ho approfondito per interesse personale da un punto di vista antropologico. Dopodiché per ragioni assolutamente casuali un mio amico faceva, si occupava, era assunto presso la Socram Torino in qualità di cerimoniere, questo è un amico che frequentavo, era un attore, molti cerimonieri hanno iniziato quel percorso da attori teatrali, a un certo punto ho dovuto rinunciare a questo lavoro per ragioni personali e mi ha detto guarda c'è un posto vagante, vai a fare un colloquio, secondo me il tuo profilo è giusto e ho fatto questo colloquio con l'allora direttore del tempio che mi ha detto va bene proviamo e sono passati dieci anni e sono ancora lì e mi occupo di presiedere e organizzare le cerimonie laiche presso il tempio crematorio di Torino, mi occupo soltanto lì di celebrare le funzioni funebi e poi se vogliamo adesso ci addentreremo più nel dettaglio. Diciamo così facciamo il passaggio, cominciamo poi da te così invertiamo l'ordine, entriamo una volta appunto introdotto il modo in cui vi siete avvicinati a entrambi a queste attività, incominciamo a entrarci in maniera più sostanziosa, quindi ti chiederai di spiegare quali sono appunto le caratteristiche diciamo prevalenti della tua attività da cerimoniere laico e quali sono appunto le mansioni prevalenti, le cose che fai perché immagino che nonostante, benché tutti abbiamo affrontato appunto dei riti funebri, abbiamo avuto delle perdite, magari non tutti invece conosciamo perfettamente quelle che sono le dinamiche, le caratteristiche di questo tipo di lavori che svolgete, quindi comincerai dalla fase ultima, poi ritorniamo alla fase precedente. Sì in realtà lei arriva prima di me perché lei si occupa di avere a che fare con i corpi. Alla fine siamo in ordine sequenziale, dal cadavere. Quindi forse meglio possiamo, seguiamo l'ordine progressivo, quindi cominciamo, forse l'ordine meglio usare, andare in ordine progressivo. La tante estetica è una scienza a tutti gli effetti ed è una pratica di manipolazione del corpo che è costituita da un insieme di gesti e di atti che vengono caratterizzati da una successione ben precisa che vanno dalla manipolazione del cadavere per interrompere quello che tutti conosciamo come rigor mortis al lavaggio, alla vestizione del cadavere per continuare poi con quella che è la fase finale la più delicata, che è la fase della tramata cosmesi, del trucco del cadavere. ed è una scienza ma non è soltanto questo, nel senso che nel momento in cui ho iniziato a lavorare come etanato esteta l'ho fatto perché avevo, come vi dicevo prima, quella necessità di addemplarmi nel mistero della morte e di accostarmi al cadavere. Il mistero della morte è rimasto così com'è e spero che lo rimanga per sempre perché diversamente perderebbe ogni fascino. Quello che invece ho capito è che il mistero è nella stanza in cui il cadavere viene rivestito. Ciò che io tocco non è soltanto un corpo che ha smesso di vivere, è anche quello ma non è soltanto quello, è la storia di quel corpo e in quanto tale è una storia che richiede un atto che è prioritario e fondamentale e di cui bisognerebbe iniziare a parlare soprattutto nell'ambito della tatuola estetica che è un atto di cura nei confronti di quella storia di quel cadavere. Un atto di cura per quelle che sono le volontà, per quelle che sono i desideri del cadavere. Io sono molto contenta di essere stata invitata a Torino Spiritualità perché è una delle poche occasioni in cui finalmente si può anche portare avanti un discorso che tante volte è un argomento difficile da affrontare. Tanto si parla, tanto si ragiona, tanto si studia tutto ciò che ha a che fare con il fine vita, con l'exitus, con la storia della tanatologia, però c'è uno spazio in questi studi che è quello dell'approccio e della vicinanza al cadavere, che è uno spazio che è ancora estremamente complesso e che è tanto difficile da accettare perché segna effettivamente il momento di non più ritorno di chi in qualche modo è stato amato, in qualche modo è stato condotto alle cure del tanatesteta. Per cui al di là di quella che è l'atto effettivo e concreto, che è quello di cui vi parlavo prima, cioè che è una scienza a tutti gli effetti, c'è anche questo, la tanatestetica vissuta come gesto di cura, vissuta come atto politico soprattutto, io lavoro tanto, io ho scelto di farlo con corpi di donne, soprattutto con corpi di donne che sono state oggetto di violenza, che arrivano da percorsi chemioterapeutici che hanno trasformato la loro figura, con corpi di donne che hanno scelto di diventare donne, che è un terreno ancora più complicato, qui facciamo riferimento al mondo della transessualità, delle transgender, sono elementi e figure la cui volontà nell'atto della pratica tanatestetica, per quello che è la mia esperienza, il 99 se non il 100% delle volte, la cui volontà viene cancellata e viene annullata. Ed è una società che per paura, per convenzione, ancora si vuole nella morte così come si è voluto nella vita. Ed è importante che ci sia anche questa possibilità di dialogo, che ci sia questa modalità di poterne parlare, perché la tanatestetica è una pratica, è ciò che vuole riportare bellezza, laddove tante volte la vita quella bellezza l'ha tolta. Prima di poi di passare la parola ad Adezeno, mi fermerai ancora un attimo con te, proprio sulla base delle cose che hai detto, tu ti sei soffermata molto adesso sulla relazione col corpo appunto del morto e quindi con il tipo anche di relazione che riesci in qualche modo a stabilire con quel corpo. Qual è invece il contesto attorno a cui, appunto che opera attorno a te, cioè le richieste, anche la diffidenza delle persone? Questo è un argomento molto interessante. Io lavoro esternamente nelle agenzie di pompe funebri per scelta. Ho lavorato poco nelle istituzioni che sono gli ospedali, che possono essere le camere mortuari. Ho lavorato quasi sempre all'interno delle case, dove si entra in una dimensione di dolore che è privato e che è anche molto più difficile da gestire e in questo ambiente in cui ci sarebbe una possibilità di espressione anche più libera e una possibilità anche di realizzazione del desiderio di chi abbiamo perduto differente. Invece tutto questo non accade, per cui richieste purtroppo non sono mai arrivate delle richieste particolari o comunque difficilmente sono arrivate delle richieste che corrispondevano effettivamente ai desideri di chi non c'è più. Quando io entro in una casa, oltre ad avere assolutamente rispetto per chi mi accoglie, parlo di chi rimane in quel dolore. La prima cosa che faccio è guardarmi nella stanza, guardarmi intorno e capire e tentare di ricostruire la storia di chi del cadavere. Quasi sempre quella storia non corrisponde alla modalità in cui chi rimane decide che quel cadavere debba essere rivestito. E dopo questo poi magari ci torniamo ulteriormente perché è molto interessante. superata questa fase, tutti quelli che arrivano da me passano da te, può anche essere, però insomma io mi occupo sì della fase successiva che comprende la ritualità funeva, l'ultimo addio. Torno a sottolinearlo, io mi occupo esclusivamente delle persone che scelgono a Torino di farsi cremare, quindi nel tempio crematoio. Mi occupo sostanzialmente di due momenti importanti, cioè quando il fereto accompagnato dai familiari, se ci sono dei familiari, accede alla sala del commiato, che è questo luogo in cui vengono portati prima della fase successiva, che è la trasformazione del corpo. Anche qui stiamo parlando di una trasformazione un po' più radicale perché il corpo verrà cremato e il secondo momento di cui mi devo occupare è la consegna dell'urna che contiene le ceneri del defunto. E lì insomma, un'urna che verrà o tumulata o delle ceneri che verranno successivamente disperse, insomma sono molte le modalità poi. Questi sono due momenti rituali molto, molto importanti. Sono momenti, ci tengo anche qui a sottolinearlo, assolutamente laici. Io non sono in nessun modo legato a istituzioni o a fedi religiose. La Socram, tra i colleghi, sono conosciuto per essere il più radicalmente ateo, con smaccate tendenze all'anticlericalismo, questo non significa che non ritenga il momento rituale un momento cruciale, fondamentale, importantissimo perché è il momento, soprattutto quello dell'ultimo distacco dopo eventualmente c'è già stato un altro funerale. Molti, quasi la maggior parte dei defunti che arrivano al tempio crematorio hanno già usufruito, insomma, dei funerali in chiesa e quindi anche qui è sbagliato pensare che chi, naturalmente, insomma, ormai la cremazione è appannaggio di tutti. Un tempo era qualcosa che riguardava soltanto gli atei, i scienziati e altre categorie non molto ben viste dalla chiesa, perché c'era una sorta di anatema contro la cremazione, insomma, è un discorso molto complesso, non c'è il tempo di affrontarlo. Però, ripeto, quello è un ultimo momento in cui i parenti del defunto scelgono di affidarsi alle competenze del cerimoniere, perché si ha la possibilità sostanzialmente di personalizzare questa cerimonia, non necessariamente una cerimonia lunghissima, è un momento assolutamente di scazione del familiare o su suggerimento del cerimoniere, è un momento in cui i familiari non hanno davvero bene idea di come strutturare questo ultimo momento. Quindi ci può essere appunto della musica, abbiamo dei bravissimi pianisti che possono eseguirla dal vivo, abbiamo degli strumenti che ci consentono di diffonderla dagli altoparlanti, di sceglierla sul computer. Molto spesso le famiglie arrivano col desiderio di leggere ancora qualcosa, una lettera, una poesia, se non se la sentono non lo facciamo noi, oppure vogliono stare soltanto in silenzio, in questo momento di raccoglimento, di ultimo raccoglimento in cui hanno la possibilità di salutare. Dicevo prima, sì sono completamente distante da qualunque ritualità religiosa, io personalmente perché poi ho dei colleghi che sono religiosi, hanno fede eccetera, ma l'esperienza mi ha insegnato quanto sia davvero importante questo momento di saluto, sappiamo che l'elaborazione del lutto è un percorso molto lungo, difficile, tortuoso e ha bisogno di attraversare alcune tappe importanti. Se viene a mancare l'ultimo saluto, questa cosa qui che è un trauma importante, ne ho avuto un conferma, non molti anni fa, lo sapete tutti, insomma, durante l'emergenza Covid, sono stati, è stato un periodo lungo, terribile, in cui le città erano chiuse, tutti stavamo chiusi in casa, gli operatori funede invece dovevano sostenere ritmi di lavoro molto maggiori e soprattutto non erano consentite le cerimonie e quindi al cimitero monumentale arrivavano 50 e oltre carri funebi al giorno accompagnati da pochissimi parenti che non potevano tributare l'ultimo saluto. E questo è stato un elemento di trauma spaventoso perché poi dopo magari ne parleremo più nel dettaglio, diciamo che in particolare questo episodio mi ha dato conferma di quanto organizzare un ultimo saluto e dargli una forma e dunque un senso sia importantissimo in questo percorso e il mio lavoro consiste appunto nel riuscire a farlo in modo dignitoso. Su questo è una cosa che è capitata spesso che ne abbiamo discusso insieme e che mi raccontavi e secondo me è interessante soffermarsi un attimo su questo aspetto, cioè soprattutto quando ricevi delle richieste particolari in cui entri in primo piano tu e devi fare fondamentalmente da mediatore tra le richieste di familiari che stanno vivendo la fase peggiore della morte del proprio caro e la presenza appunto poi del corpo che viene cremato e quindi ti ritrovi costantemente ad avere a che fare con contesti sociali, culturali, probabilmente molto differenti. Ecco, io volevo chiederti proprio perché mi ricordo che spesso ne abbiamo parlato insieme nel corso degli anni come hai imparato in qualche modo a mettere da parte te stesso e a fare in modo di aderire alle richieste se questa cosa invece a volte non riesci del tutto a metterti in secondo piano se hai qualche cosa appunto da dire su questo aspetto che mi sembra forse da esterno una delle cose più complesse. Ma tu parli di coinvolgimento emotivo. Coinvolgimento emotivo, sì, coinvolgimento emotivo ma anche magari ti vengono fatte delle richieste uno dei tipi di letture o di cose a cui non credi particolarmente quindi come ti prepari? È chiaro che se mi chiedono di recitare una preghiera io gliela devo recitare, la devo leggere perché è un momento loro. Io posso non credere nell'efficacia per me di quella preghiera ma posso trattarla come un testo letterario. Comunque io sono al servizio di quel momento che è assolutamente loro quindi è fondamentale che il cerimoniere li accolga faccia sentire loro che hanno un alleato diciamo così in quel momento e che farò quello di cui probabilmente hanno bisogno. Il discorso è diverso è il discorso del coinvolgimento emotivo che è qualcosa con cui hanno a che fare tutti gli operatori del settore. In qualche modo devono costruirsi uno schermo, devono riuscire a essere distaccati. Non sempre è possibile farlo perché ci sono appunto come dicevi prima casi molto diversi fra di loro. Una cosa che non ho detto è più o meno quante cerimonie devo presiedere ogni giorno nel cimitero monumentale di Torino, al Socrem. Diciamo che ogni giorno arrivano in media, diciamo che una giornata leggera sono 15-18 funerali, 18 cerimonie. Una giornata pesante può superare i 25, arrivare fino a 30. Questo significa anche un carico di lavoro e soprattutto di concentrazione. È un momento totalmente delicato che prevede un continuo switching, cioè devi continuamente cambiare tipo di attenzione perché trattandosi appunto di casi molto diversi tra loro. Per cui sì, magari c'è il caso di una famiglia che ha perso una nonnina molto anziana, c'è il caso della famiglia che ha perso un bambino, che ha perso, insomma, i lutti, ogni lutto ha il suo grado di intensità. Non è vero che che c'entri soltanto l'età del defunto, perché ho visto persone disperate per aver perso delle persone a ultracentenaie, che diceva, beh, eppure bisogna entrare in empatia, questo sì, con il bisogno di ciascuno di loro. E chiaramente ci sono dei momenti in cui il cerimoniere è molto stanco perché dopo il tredicesimo funerale cominci a non connettere più tanto bene. Proprio per un problema di concentrazione, tu devi stare sempre attento a quello che sta succedendo nella sala, perché può capitare di tutto e soprattutto tu puoi sbagliare. La paura nostra è quella di sbagliare, di mettere male la musica che parte al momento sbagliato, di leggere una lettera scritta sulla carta del formaggio che ti danno un attimo prima, tu devi decifrare magari, e allora hai paura di… perché? Perché quello è un momento molto importante, se tu sbagli o qualcosina rischi di, anche soltanto per un dettaglio, di rovinare quel momento lì, e allora sei sempre in tensione, più per quello, che per il carico di altrui dolore che ti si riversa addosso, no? Poi chiaramente l'atmosfera spesso è tesa, la percepisci, quel dolore da qualche parte insomma ti arriva, no? E allora abbiamo tutte le nostre tecniche, i colleghi, insomma è anche un contesto in cui cerchiamo di scherzare molto nel backstage, diciamo così, di prenderci in giro, di mandarci dei segnali che in qualche modo riescano a stemperare quel tipo di tensione, ed è una cosa molto fondamentale avere una squadra intorno a sé di persone che capiscano questo aspetto. Assolutamente, e questo adesso sulla base di entrambe le risposte che mi avete dato mi ha fatto venire in mente, poi ci torneremo magari su degli aspetti, poi chiederemo anche, vediamo anche se ci sono domande dal pubblico, ma torneremo magari poi anche su degli aspetti più specifici del vostro lavoro. Però la domanda che mi viene da fare entrambi sulla base delle cose che avete detto, sulle cose che magari potete anche aggiungere dopo, come ha cambiato la vostra attività reiterata nel tempo, il vostro personale rapporto con la morte, con la perdita, mi verrebbe da dire nel caso poi forse più tuo specifico anche col corpo, con l'approccio anche al corpo vivo da un certo punto di vista. Quindi questa attività com'è influito poi sulla vostra visione appunto della morte, sul vostro modo di sentire la morte anche della corporeità. La professione ha portato dei cambiamenti importanti, sostanziali, perché da un punto di vista proprio tecnico, scientifico, entrare in una pratica tanatestetica significa comunque entrare in una pratica che è di aggiornamento continuo, di informazione, di crescita, perché in ogni modo ci sono tecniche, modalità prodotti che sono sempre nuovi, che sono innovativi. Dal punto di vista personale il cambiamento è stato tanto ed è stato importante anche lì. Infatti pensavo alle parole che dicevate poco prima, di quello che poi ci si porta a casa una volta che il lavoro è stato compiuto e che la porta all'interno della quale si è lavorato viene chiusa. Io mi sono accorta che con l'avanzare del tempo e quindi quando le richieste di vestizione e di manipolazione del cadavere iniziavano a diventare più numerose e soprattutto iniziavano ad entrare in un mondo che era quello di un dolore molto forte, come il dolore per la perdita di un bambino, di un figlio giovanissimo. Quello che io portavo a casa era appuntalmente un senso di gratitudine ed era quello sguardo di gratitudine che io ricevevo da chi sapeva che comunque in un modo che è stato fatto. Quell'atto di cura, anche quella carezza nonostante poi la pratica tanatestetica abbia tecnicamente dei modi che sono apparentemente molto forti perché si entra nel corpo in una maniera molto forte e si tocca e si manipola il corpo ma è necessariamente una cosa che deve essere fatta. Dietro quella forza però c'è quest'atto d'amore, quest'atto di cura e questo senso di gratitudine che arriva e soprattutto quello che a me arriva e che ha sempre arrivato nel corso del tempo era il discorso da cui sono partita, per cui è un circolo come se il cerchio si fosse chiuso. Questa crescita del senso del mistero all'interno della stanza nel momento in cui ho rapporto, tante volte rimango da sola perché i familiari la maggior parte delle volte preferiscono non assistere alla manipolazione, alla vestizione e rimanere da soli con un cadavere soprattutto quando di quel cadavere non si sa assolutamente nulla. È come incontrarsi con una persona che non si conosce con il senso però di essere in una condizione completamente differente, cioè di essere lì ad accompagnare nel momento che è il momento finale che è quello del di aver varcare la soglia e accompagnare verso una condizione di eternità. Ora io non ho non sono atea come ade però non ho quella che cristianamente viene intesa come fede quella che Enzo Bianchi definisce una forte interiorità e in quell'interiorità ho lavorato tanto su me stessa ho lavorato nei confronti della mia professione ho lavorato soprattutto per un atto di rispetto verso il cadavere e questo forse è quello che più ha cambiato e che più mi ha cambiato cioè stranamente ed era un timore che avevo all'inizio che invece questa vicinanza potesse portare quello che io non avevo mai provato che era la paura e che per fortuna è un sentimento che non è mai arrivato grazie molto interessante ci sono tanti punti veramente che sarebbero se ci fosse molto più tempo da approfondire molto interessante grazie io ho sempre avuto paura della morte da bambino ricordo ero quasi ossessionato dalla paura della mia morte e proprio perché non avevo una famiglia sono proprio nato ateo perché vengo da una famiglia che non dava risposte sull'aldilà si parlava del nulla si parlava del... sono stato formato insomma su questa cosa non sono battezzato i miei figli non lo sono quindi ho un'idea di vita che ha a che fare con la vita e questo è un pensiero che non conforta specialmente quando sei un bambino ne avevo molta paura non lo trovavo una soluzione accettabile lavorare costantemente ed è una cosa che mi sono portato appresso per molti anni sicuramente lavorare dove lavoro e come lavoro ha fatto sì che questa paura per me stesso si attenuasse in modo decisivo direi fino a raggiungere il grado zero io non ho più paura di morire perché probabilmente vedendo soprattutto cosa succede dopo a un corpo non credendo nell'anima mi tranquillizza forse il fatto che ci sia sento bisogno di corteggiare l'idea di oblio che è una cosa che mi rassicura molto che a un certo punto tutto finisca diversamente è aumentata però la paura della morte degli altri questo sì capita quotidianamente insomma in casi particolari è inevitabile per me fare delle proiezioni avendo dei bambini piccoli piccoli ormai sono quasi adolescenti però quando erano piccoli dieci anni fa avevo paura avevo paura di morire io e di lasciarli da soli per esempio perché mi capitava di vedere situazioni diciamo un genitore giovane i bambini piccoli in sala li vedevo e dicevo non voglio che capiti non voglio che a loro capiti una sciagura del genere poi la paura di perdere loro che capiti qualcosa ai miei figli alle persone che amo ecco questa cosa qua sicuramente è aumentata perché avendo accesso a una una casistica di insomma di sciagura che capitano tutti i giorni a chiunque è chiaro che è una cosa che può capitare a te ti rendi conto che la più grande banalità che si possa dire ma è anche una è una verità insomma che la nostra vita è effettivamente appesa a un filo può finire all'improvviso ecco non ho più paura per me ma sicuramente ho il terrore di perdere delle persone proprio perché tra l'altro non ho la speranza di di rivederle più per come la la vivo io insomma che tra l'altro mi verrebbe sulla base delle cose che hai detto è un po' una specie di leitmotiv di quello che è emerso almeno mi è sembrato di vedere emergere in questi giorni di incontri appunto di quelli che ho fatto penso ai Def Caffè che ho condotto ma anche all'incontro pubblico di ieri un po' una specie di collegamento adesso nel tuo caso nel vostro caso l'incontro con il morto e la morte è un incontro veramente molto più forte incisivo e presente però è una cosa che è emersa abbastanza nelle discussioni che sono state fatte è che pensare alla morte in un'epoca che la rimuove se ne è discusso tantissimo che è il tabù della morte ma prendere coscienza della nostra mortalità non trascurarla vederla sapere che appunto potrebbe capitare da un momento all'altro può diventare una forma un modo per non averne paura per riuscire a scendere a patti con la propria mortalità a differenza invece di quella delle altre persone amate un po' questo è un elemento che è emerso moltissimo nelle discussioni che abbiamo fatto nel corso di questi giorni il senso della riscoperta della propria mortalità mettere proprio la propria attenzione su questo fatto in qualche modo ci emancipa può essere un atto emancipatorio che però dall'altra parte è contrapposto dalla paura che aumenta e che emerge nei confronti invece della morte dell'altro che crea forse la vera assenza perché poi di fatto mi viene da da pensare questo su questo sono abbastanza l'abbiamo spesso discusso insieme sono abbastanza d'accordo con te che del mio oblio post mortem non è che me ne importi granché cioè una volta che siamo morti beh il mondo va avanti nasceranno altre persone occuperanno il mondo meglio di quanto l'abbiamo fatto noi probabilmente è più il fatto di perdere di non sapere magari come cresceranno nel caso tuo come cresceranno i tuoi figli che tipo di percorso prenderanno le persone amate quindi questo è un elemento secondo me che è importante evidenziare e sottolineare grazie a tutti Grazie a tutti